Carlo Maccari, candidato alle politiche per la Camera dei Deputati, capolista di Fratelli d'Italia nella circoscrizione Mantua-Cremona-Lodi e Pavia, ha girato in lungo e largo il territorio per ascoltare i bisogni della gente. Quali sono le necessità più impellenti per il territorio mantovano di cui occuparsi subito a Roma? Al netto della tragedia dell'energia sulla quale Giorgia Meloni ha già espresso l'opinione di un intervento immediato e urgente il giorno dopo, a Mantua è emerso come tema ancestrale il problema delle infrastrutture. Il fatto che in questi anni il ministro Toninelli e Cinque Stelle abbiano impedito ad ogni governo di riprendere in mano il tema delle autostrade, ad esempio, penso che per noi sia stato un guaio importante. Il nostro sistema logistico ha bisogno per crescere di potenziale autostrade, strade e ferrovie e non è pensabile che tutto questo sia ancora nei cassetti. Il PNRR poteva essere un'opportunità da sfruttare che invece finirà in una montagna di rivoli di denaro poco efficace e soprattutto non rispondente alle richieste dei cittadini in questi giorni. E sulla questione del PNRR, Fratelli d'Italia è stato chiaro, bisogna rinegoziarlo. Ma come e con quali obiettivi? Io penso che fosse necessario individuare 15-20 grossi progetti decisivi per la competitività del paese e non disperdere in questi rivoli. Io in questi giorni siamo stati anche a Cremona, che è il mio territorio di campagna elettorale. Un sindaco ci raccontava di un piccolissimo comune come l'unico progetto cantierabile era la costruzione di un asilo nido in un comune che da sette anni non vedeva la nascita di un bambino. Quel comune produrrà l'asilo nido, la sua competitività rimarrà esattamente identica ad adesso e noi avremo buttato via centinaia di migliaia di euro. Ha ragione Giorgia Meloni a dire di fermarci in un momento. Da quando il PNRR è stato progettato il mondo e soprattutto in Italia il mondo è cambiato, abbiamo bisogno di riguardare nuove priorità. Il commissario Gentiloni, contrariamente a quello che l'ETA ha annunciato in questi giorni, ha detto che la proposta di Giorgia Meloni è una proposta ragionevole e credo che dovremmo andare su quella strada.